Musica Corteo di protesta oggi giovedì 1 marzo a Torino contro Forza Nuova che si trovava all'Hotel Royal per un comizio pre-elettorale. La manifestazione è partita intorno alle 18 da Vessandonato, con striscioni, urli antifasciste e intonando canzoni partigiane come Bella Ciao. Giunti nei pressi dell'Hotel Royal, un cordone di pulizia li ha bloccati. Il corteo è poi proseguito al Martinetto, simbolo partigiano, dove avrebbe dovuto avere fine. Invece ha poi continuato verso il vicebrario. A parte le urla, non ci sono stati incidenti o atti di violenza. L'artifascismo è nostro e non lo deleghiamo. L'artifascismo è nostro e non lo deleghiamo. I suoi candidati sono figli di Matteo, sono nazisti. L'artifascismo è nostro e non lo deleghiamo. 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 L'artifascismo è nostro e non lo deleghiamo.